Il numero 2 è Elia che si trova ora sul settore sinistro, serve in profondità a Krizmarevic lo impegna in questo dribbling, Paganin conquista metri preziosi con grande insegue Bergkamp, Krizmarevic dal limite fa partire il sinistro la deviazione di Zeng del numero 11 dell'Apollon del direttore di gara lussemburghese Krizmarevic Pescato Krizmarevic, prova a superare Battisti Krizmarevic, la battuta, la risposta di Zenga Pugni-Kinter dopo 19... E sempre il serbo Krizmarevic Sesso di palla Krizmarevic Rinviene anche Tramezzani Zepovic, l'uscita di Zenga Grazie 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 Grazie